Buonasera, allora, buonasera a tutte, eccoci in diretta, ciao a tutti, mi chiamo Alba Romito, sono la consulente con Mari italiana più giovane al mondo, oggi parliamo dell'arte dello shopping consapevole, intanto che vi aspetto in diretta mi connetto anche con il telecomputer, perché se no ogni volta faccio fatica a vedere i vostri commenti, quindi cerchiamo di vedere anche i vostri commenti, ce la possiamo fare, ok? Va bene, nel frattempo che vi connettete, oggi è sabato, il tempo vola, allora, nel frattempo ovviamente le mie dirette sono sempre a sorpresa, quindi in realtà io chi becco becco, cioè nel senso che se vi incontro nella mia diretta sono felice, se no bisogna che ci si incontri in qualche modo, ok? Però quando appena mi trasferirò vi farò vedere, vi dirò degli orari, ecco. Oggi abbiamo uno sfondo diverso, chi è in scelgo me conosce questo sfondo, perché è nei video ed è uno sfondo giappo, ok? Vedete? Che a me piace tantissimo, un paravento che io ho comprato e che poi ho usato nel mio percorso scelgo me per i video. E niente, oggi ho fatto dei video, quindi vi faccio vedere, no? Sulla scrivania, vedete? Ci sono, c'è la fotocamera, qualche libro, ok? Per farvi capire che quando uno fa qualcosa è normale che ci siano le cose, no? Da qualche in giro, ok? Quindi come sempre, per farvi vedere che non è che siamo perfezionisti, chi fa ordine semplicemente vuole avere più tempo, più energia per se stesso e vivere la casa con più serenità. Questo è il punto, ok? Quindi saluto tutte e benvenute a tutte in questa diretta. Ok, oggi volevo parlare dell'arte dello shopping consapevole inventato da me medesima, ok? Ogni tanto mi giro per guardare il computer, solo se magari vanno dei commenti che non leggo. Comunque saluto tutte, buona serata a tutte, buona serata a tutte. Volevo parlare dell'arte dello shopping consapevole che io ho inventato, perché in realtà uno, il grande, diciamo, primo beneficio concreto, parlando proprio di riordino, no? Che è andare a cercare di diminuire le cose che abbiamo, perché il disordine, ecco, premessa è noi siamo disordinate, io parlo al plurale perché anch'io sono stata disordinata, però mi piace, ok? Entrarmi tanto in con voi e farne parte. Quando siamo disordinate, cosa accade? Che noi tendiamo a comprare molto e ad accumulare in casa nostra le cose che compriamo. Poi cosa succede? Che non avendole organizzate bene, non avendole a vista, noi non le vediamo e per questo motivo non le usiamo, ok? Infatti abbiamo cose con l'etichetta attaccata, sono delle cose normalissime che avvengono, ok? E che ci sono nella casa di una persona che è disordinata e che quindi ha tante cose e di cui non sa nemmeno la maggior parte il perché ce le ha, molto spesso, diciamo che se in questo momento tu pensi alle cose che ti piacciono in casa tua, pensaci. Quelle che ti vengono in mente sono quelle che devi tenere, ok? Quelle che non ti vengono in mente sono tutte quelle che ti devi porre a domanda ma perché ce le ho? Delle volte si fanno delle scoperte, in genere veramente si fa shopping in casa quando si fa ordine perché ritrovi cose che ti servono in quel preciso momento e che se non le avessi trovate facendo ordine avresti dovuto spendere dei soldi per comprarle, quindi facendo ordine innanzitutto fai uno shopping in casa, quindi praticamente ritrovi cose che poi ti sono utili e quindi non spendi altri soldi, quindi c'è un risparmio da quel punto di vista perché hai già le cose in casa, inoltre accade anche che tu con le cose che tu decidi di lasciare andare puoi rivenderle, ci sono donne che in scelgo me hanno rivenduto delle cose, ci hanno fatto 15-20 euro però piuttosto che zero qualcosa ci hai fatto, piuttosto che tenerlo lì a far niente, a far la muffa, l'hai rivenduto, ci hai fatto qualche soldino che poi ti tieni da parte, perché? Perché te lo tieni da parte? Perché durante il percorso di riordine non è che ti metti a comprare, se fai spazio ti metti a comprare non ha più senso fare ordine, ok? Quindi lo shopping consapevole parte già dall'inizio, shopping consapevole è un'arte, che io definisco così, che bisogna assolutamente imparare, deve diventare un'abitudine e questa abitudine come la costruiamo secondo voi? Facendo ordine, facendo il percorso scelgo me, il percorso scelgo me è lo strutturo su 5 punti cardini, ok? Tra questi c'è anche nella disciplina c'è lo shopping consapevole. Lo shopping consapevole è che viene introdotto nel percorso e che tu rendi, ok? Prendi questa consapevolezza, no? Sul come gestire i tuoi soldi, su come spenderli, perché una volta che hai fatto ordine accade una cosa bellissima, che tu c'hai paura di portare le cose in casa. Cioè, perché rifletti non una, non due, ma tre volte prima di portare qualcosa in casa tua. Perché? Perché sai che dovrai dare a quella cosa una collocazione fissa. Dovrà avere un posto nella tua casa, non potrà vagare, non potrà vagare, ok? Per questo semplice motivo, quando tu andrai a comprare e dirai voglio comprare un maglione, voglio comprare un paio di calze, tu andrai con quell'intenzione e tornerai a casa vittoriosa che hai comprato quello che tu realmente volevi. La commessa di turno non ti ha davvero potuta neanche smuovere di un centimetro nel farti comprare quello che lei voleva. Io ho avuto a che fare, ovviamente in questi quattro anni, da quando io mi sono fissata che i soldi li spendo solo per quello che per me è realmente importante e io sulla gestione dei soldi sono veramente forte. Cioè, pensate che, pensate che ho le amiche, anche mia madre, che mi chiedono di andare a far shopping con loro, non perché le demotivo, eh, perché io le faccio le domande, dico, proprio le domande chiavi che le portano a capire se veramente quel capo, quella cosa che vogliono comprare, merita di essere comprata. Quindi faccio le domande proprio quelle un po' che ti fanno riflettere e ti fanno capire se effettivamente quei soldi hanno quel valore che tu realmente noi stai dando in quel momento per quel vestito, quel libro, qualsiasi cosa. Io poi sono molto sincera e ti dico anche se quello che stai comprando, soprattutto sui vestiti, io proprio te lo dico, se non mi piace, non mi piace, cioè te lo dico. Infatti non potrei mai fare la commessa tipo la che fa per i vestiti, per i negozi, perché io non ce la farei mai a far comprare una persona qualcosa che le sta malissimo, cioè ok che il mio gusto non conta, ma io non ce la farei mai, ok? Quindi io sono una persona che quando sono in compagnia di amiche e amici non sono quella che ti dice compra, compra, che così stai meglio, no? Ti faccio sfogare con i soldi. No, ti accompagno a fare shopping, però quando stai per comprare in effetti mi viene spontaneo chiederti ma veramente lo vuoi? Pensi che sia realmente la gonna adatta a te, ma tu questa gonna ce l'hai anche in casa tua, nel tuo guardaroba, è un colore che tu porti, ma perché? Per quale occasione la useresti? Quando fai certe domande e quella dice in effetti forse non la metterai mai, allora ciao! Cioè io sono, cerco appunto di fare quelle stesse domande che io stessa mi pongo ogni volta che vado a comprare e io infatti compro raramente, difficilmente qualcuno mi convince, perché io ho le idee molto chiare su cosa mi piace e cosa non mi piace ed è perché ho fatto ordine, facendo ordine io in casa mia so esattamente i vestiti che ho, perché ce li ho e so che quelli che ho sono quelli che mi stanno bene e non altri, così come il genere di libri, così come tutto il resto nella mia casa, ok? Questa è stata cosa che imparano tutte le donne che fanno ordine, che iniziano il percorso Scelgo Me, vedo anche un commentino, ciao Sirenis, ciao! Ciao! Come stai? Come sta andando il percorso? Ho visto in Scelgo Me che state facendo una maratona tutte, stasera entro nel gruppo e vi bombardo di commenti e vi dico tutto come sta andando e mi dedico a voi e via, mi aggiorno perché... ma tutte! State facendo un sacco di passi avanti, complimenti a tutte! Ciao Rosy, ciao! Un abbraccione anche a te, un abbraccione anche a te. Spero vada tutto bene a voi del percorso, ok? Vedo che state state andando davvero bene, sono veramente contenta. Da un lato questo momento veramente di stop è ottimo per fare ordine perché quando devi fare ordine devi mettere un punto, capire che... devi proprio capire come è successo fino ad oggi e mettere quel punto per ricominciare da capo e quando ci si blocca, anche in questo momento, no? Siamo fermi per forza, è dovuto, ecco, prendere quel punto che ci stanno dicendo di fare, facciamolo in modo pratico, facciamo ordine ora perché è il momento perfetto per ristabilire quell'equilibrio fra noi e gli altri, fra noi e le cose che abbiamo in casa, fra il nostro passato, il nostro presente, il nostro futuro. Ciao Marina, ciao Marina, complimentoni per le scelte che hai preso, ieri ho visto un post fantastico tuo, davvero 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 tanto bello, sono proprio contenta del percorso che stai facendo, sei un grande esempio, ciao Rosy, quindi complimentoni a tutte. Allora, dicevo che appunto lo shopping consapevole, ok? Che l'arte dello shopping consapevole, così io l'ho chiamato, è proprio quello che si impara durante il percorso, ma come? Prendendo consapevolezza sulle cose che hai, perché è facile che uno ti dica, ma smetti di spendere soldi, tieni da parte, sì sì hai ragione, lo faccio, lo faccio. Poi due giorni dopo sei davanti a un negozio bellissimo che c'ha proprio quella gonna che tu cercavi, quel colore, quel libro che ti piace, che proprio ti batte il cuore, lo compri, ma non è colpa tua, non è colpa di quella persona che aspetta dirti le cose, è che tu hai una cattiva abitudine, cioè quella di partire e farti trasportare dalle tue emozioni quando stai comprando, senza pensare alle conseguenze. Perché tu pensi, lo compro, poi lo leggo, lo compro, poi lo uso? No, la domanda è, cioè la domanda che ti porre è lo compro, ma dove lo metto? Cioè la domanda giusta è, lo compro, ma dove lo metto? Se non ce l'hai lo spazio, non compri. Ecco che lì trovi finalmente quel freno che ti porta a non comprare, perché sennò compreremo tutto di tutto ovviamente, ma la nostra casa ha dei limiti, non è un magazzino, ma anche i magazzini hanno dei limiti. Ok, la nostra casa non è un magazzino, dobbiamo trattarla con rispetto, perché noi ci dobbiamo vivere in quella casa e pretendo, io pretendo in casa mia, non so voi, di avere lo spazio necessario per me, per viverci, per poterci camminare e fare quello che voglio. Sirenis, tutto bene oggi? Mi sono riposata, così mi riparto con le carte. Ah, le carte! Immagino il peso! Ma è che tu sei abituata, il tuo lavoro ti porta solo ad avere carte, carte, carte. Tu hai una carica assurda e adesso mettere ordine è fondamentale. Yes! Grande Sirenis, la parte delle carte è pesante, ragazzi, immagino. Marina, pensate che non riuscivo a stare in casa. Eh sì. Ho aggiunto i libri! Wow! Grande, caro! Grande! Sapete che io ogni tanto uso i nomignoli, ma anche, cioè, scusatemi, ma solo per, come dico sempre, il problema non è, come quando dico ragazze, cioè ho il problema che il mio nome è Corto Alba e qui intendo ad accorciare anche i nomi degli altri, perché il mio non ha un nomignolo e quindi ce ne faccio con gli altri. Comunque, brava caro, brava brava brava. Allora, quindi dicevo, se volete capire come fare uno shopping consapevole, la domanda è, non è, mi potrebbe servire, però è bellissimo, lo devo avere, per forza è, ma ci sta in casa mia? Perché se vi fate la domanda, la risposta è, o che trovate posto, o che non ce l'avete. Se però vi dite, devo trovare posto, ok? Quello bisogna capire è, come fai a trovare posto? Devi fare ordine, ma non puoi fare ordine a pezzetti, perché come sapete, ordine a pezzi non ha senso. L'ordine, fare ordine un po' tutti i giorni, prendere, eliminare un po' tutti i giorni, non serve a niente, perché? Perché tu non sai fare uno shopping consapevole, non è tra le tue abitudini, quindi così come fai spazio, così come così comprerai e continuerai quindi ad avere sempre gli spazi pieni. Tu non devi passare la tua vita a buttare per far spazio, tu devi passare la tua vita a viverla come tu vuoi. E le tue cose, la tua casa, deve rispondere alle tue esigenze e necessità, deve venirti incontro, ok? Questo è l'obiettivo, io l'obiettivo che porto e quello che io voglio portare nella vita delle donne che sono nel mio percorso è non impegnare più di 30 minuti a settimana a riordino, una volta che si è finito di fare ordine ovviamente. Durante il percorso di riordino per forza bisogna impegnare del tempo, ma perché è tutto quel tempo che voi non avete mai impegnato fino ad oggi per scegliere una volta e per tutte di fare ordine, quindi è normale che ora bisogna dedicare del tempo ed è normale che ci sia un momento anche un po' in cui ci sia un po' di caos, no? Però alla fine siete stati in disordine fino ad oggi, fare una settimana in più, una settimana in meno non cambia, soprattutto se state facendo un percorso che vi aiuta a fare ordine, ok? Io zero shopping fino alla fine, neanche in internet, grande perché neanche io lo sto facendo, cioè io non è che vi dico non comprate e io compro tutti i giorni, assolutamente no, per forza, non posso comprare e stai risparmiando un botto, ma certo, sapete quanti soldi mettete da parte? Voi avete idea? Probabilmente chi ha iniziato il percorso con me a gennaio, adesso con tutto quello che sta accadendo ha anche i soldi da parte ed è anche al sicuro in questo momento di difficoltà. Quindi quando uno ha una buona disciplina, uno sia di vita sano e davvero che risponde ad esigenze e necessità, è normale che se tu hai un obiettivo perché l'idea di un percorso è porti un obiettivo, ok? Cioè grazie all'ordine otterrò qualcos'altro. Perché? Perché tutto quello che tu impari in un percorso di riordino non può rimanere finalizzato all'ordine. Devi avere anche un obiettivo più in là, cioè se ti dico impara a fare shopping consapevole, sì ma per quale motivo reale? Perché così avrai più soldi per investire nei tuoi obiettivi, perché così avrai più spazio in casa per dedicarti a ciò che ami e non doverti continuamente stare dietro alle tue cose, quindi non vivere più il disordine, vivere nell'ordine, avere serenità. Potremmo continuare a dire tutti i benefici del mondo che l'ordine porta, ma tu non puoi, cioè io quando dico fate questo, dico sempre il perché. Quando ti benefici annessi? Perché non ha senso. È come quando la mamma ti dice mangia tutto il piatto, mangia, mangia, mangia tutto, no? E tu dici ma perché non c'ho fame? È giusto, ma non ti devi dire il perché di mangiare tutto, perché se no tu giustamente dici faccio quello che voglio. Se tu gli dici benefici da quella azione cosa può portare, una persona ci riflette due volte e questa cosa è, ma scusami, ma se tu c'hai la casa piena di cose, perché continui a comprare? Vai alla radice, non puoi continuare a comprare cose perché a tua casa a un certo punto non ci cammini più in casa, ok? Quindi dato che è la nostra casa, deve essere un luogo dove noi siamo a nostro agio, dove viviamo bene, dove dovremmo proprio essere felicissime quando torniamo a casa e dire non vedo di tornare a casa mia, casa mia non casa di altre persone, eh? Casa mia vuol dire che c'è la mia casa con le mie cose che parlano di me, non cose di altre persone, non cose che non so di chi appartengono, non cose che non mi piacciono, cose in cui non mi identifico, ok? Sono cose mie, casa mia, se no non sarà mai tua. Quindi quello che bisogna fare, infatti le carte non mi fanno paura perché sul lavoro sono ordinata, vorrei sistemare le carte di casa, ma ovviamente devo avere il benesterno di mamma su tutto e non solo su quello che mi consente di sistemare, speriamo bene, yes, io sono sua fan, sono sostenitrice, sono sicura che vedrai che ti verrà incontro, anche perché nel percorso abbiamo, è entrata recentemente Evelyn che mi ha scritto un messaggino stamattina mi sembra e mi ha detto, ah era proprio ragione perché io ho iniziato il mio percorso di riordino e mia figlia, ok? Sta prendendo esempio da me e lei pensava che sua figlia mai l'avrebbe presa come esempio e invece in questo momento tac, è cambiato qualcosa anche nella relazione in casa ed è così perché fare ordine vi porta proprio a creare anche un momento differente, diverso dal solito di condivisione, di relazione e potete scoprire anche qualcosa di nuovo nelle persone con cui siete in famiglia. Come vi dico sempre, le persone con cui vivete, le persone del vostro famiglia, se vivete con queste persone, sono persone che non dovete pensare che siano degli ostacoli nel vostro percorso di riordino, ma sono persone che in realtà possono anzi renderlo ancora più speciale, ok? Ecco perché io creo il gruppo di condivisione per tutte le donne di Scelgo Me, perché la condivisione è fondamentale, è bellissimo poter far vedere una cosa che tu hai fatto, un passo avanti che hai fatto e vedere tante altre donne che ti sostengono e che ti stanno vedendo come esempio, perché tu hai fatto i libri e c'è qualcuna che hai vestiti, devi ancora fare i libri e crede in te, ma grazie a te crede in se stessa, top! È così che si finisce prima a fare ordine, perché vedi le altre che vanno avanti, non puoi smettere! Quindi, sono contenta di tutte le donne di Scelgo Me e lo shopping consapevole, l'arte lo shopping consapevole la si sviluppa durante il percorso e la si porta avanti per sempre. Poi, ovvio, se tu hai cambi casa, hai una casa più grande, probabilmente ti potrai dedicare ad avere anche più cose, però saprai mantenere un ordine tale per avere ogni cosa a una sua collocazione, a un suo posto e comunque sarei attenta sempre per ogni cosa che porterai in casa. Cosa intendo dire? Anche degli scontrini sto parlando, delle caramelline che prendete al bar, la borsa va svuotata quando tornate a casa, ok? E gli scontrini, se non sono utili, vanno cestinati, perché sennò vi riempite le borse, gli angoli di casa di scontrini. Così come le etichette, via ste etichette, insomma, no? Io ogni tanto quando vedo i vostri video vedo delle etichette che sbucano dai vestiti, eh? Però non ve lo perché dovete scoprirlo da sole, ok? Poi, vabbè, qua io ho il computer intanto che vedo se mi mandate dei messaggi, ma li riesco a leggere, oggi la linea è un po' meglio, si vede. Oggi abbiamo avuto altri due ingressi in Shergome 2, sono molto contenta, quindi preparatevi donne di Shergome che arriveranno altre due donne a farvi compagnia. E quindi, shopping consapevole, non so se avete qualche domanda a proposito per chi sta guardando. Comunque, imparare a comprare, gestire i propri soldi è molto importante, è molto importante perché in realtà, se ci pensate, il fatto di avere pochi soldi a fine mese, non abbastanza per qualcosa che vogliamo fare, ci crea insoddisfazione, infelicità, soprattutto sul lungo tempo, perché pensiamo che è normale che ogni volta che vogliamo fare qualcosa non abbiamo i soldi per farlo. In realtà non avete i soldi per farlo, è come avete gestito i soldi fino a quel momento, non vi siete neanche accorti di quanti soldi avete speso, però se ogni persona all'incirca una media che è disordinato ha 10.000 cose, se solo una di quelle cose costa 10 euro, fate voi i conti di quanti soldi ci sono in casa vostra spesi. Quindi metteteci pure il valore della casa, ok, tra affitto, oppure l'avete comprata, quindi immaginate quanti soldi avete speso. Quindi ci sono i soldi, cioè ognuno di noi ce li ha i soldi, dipende come li spende. Ed è lì che bisogna andare a dare valore, a dare un senso, un significato, ma come puoi imparare a dare valore ai tuoi soldi, dare valore alle cose che compri, dare valore a come tu li spendi, è fare un percorso dove tu impari, io insegno, tu impari a dare valore al già le cose che hai in casa, alle cose che già hai comprato e che maggior parte non sai nemmeno il perché. Delle volte mi dici ma perché l'ho comprata, ma perché ne ho tre uguali? Non ti porre più la domanda il perché, dai un senso imminente, cioè ok, ho comprato, non so il perché, non facciamoci altre domande, era un momento particolare, si vede, volevo comprare così. Fa niente, ho capito che però ho speso dei soldi per qualcosa che non mi interessa, che non ha senso, da ora in poi non comprerò più magari, non lo so, avete comprato, pensiamo a qualcosa di, apro un attimo qua, vedo se c'è qualcosa che, non lo so, facciamo finta, uno specchietto, uno specchietto da borsa, ok, avete preso uno specchietto da borsa, va bene, e non l'avete mai usato, mai, 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 ne avete uno, avete detto ma perché l'ho comprato? Perfetto, una volta che vedi quello specchietto da borsa, dici potrebbe essermi utile? No, no, perché se non l'hai usato negli ultimi anni e ce l'hai avuto sempre là, non cambierà molto il tuo stile di vita, il stile di vita è quello che inconsciamente fai, sono le tue abitudini, non è che devi cambiare da un giorno all'altro, non è che puoi iniziare a usare tutte le cose che non hai usato fino ad oggi, all'improvviso, ok, tu sei una persona che ha determinate abitudini, ama determinate cose, ha una classifica personale, deve cercare semplicemente di adattare quello che piace all'ambiente in cui vive, quindi se ti hai gli specchietti da borsa, gli specchietti da borsa non li usi, prendi e lascia andare, regali, doni, che sono tassano con tacco di persone che a cui piacciono, va bene? Io ad esempio di specchietti da borsa ne ho uno, punto, per quella volta che ho la borsettina e magari esco e voglio magari guardarmi il rossetto perché metto un rossetto particolare, punto, ne ho uno, non ne ho decimila, comunque come ho detto ma in tutto dobbiamo sempre essere un esempio, io non sono una che compra molto, non ricordo nemmeno l'ultima cosa che ho comprato per farvi capire, ma perché sto attentissima, sto attentissima perché so che quando arrivano le opportunità, quelle che veramente voglio, io voglio potermi veramente permettere quella opportunità che per me potrebbe rendermi felice, può essere, ma può essere semplicemente anche un libro, ma avere lo spazio per quel libro, non so come dirvi, cioè la mia libreria non è piena al 100%, direi 75%, i miei cassetti non sono pieni al 100%, direi 80%, perché voglio sempre darmi l'opportunità, ok, la possibilità di poter, quando veramente trovo quella cosa che mi folgora e che amo, di poterla comprare e mettere nel mio cassetto, nella mia casa, farla entrare a far parte della mia casa e la mia vita, capito? Se invece non ho lo spazio, io non riesco a comprare perché so che poi potrei creare disordine, quindi non lo faccio per una questione proprio di serenità mia in casa, perché poi basta quella cosa fuori posto e da lì si genera il disordine, ok, come sapete. Quindi, shopping consapevole, l'arte dello shopping consapevole, la si apprende non da un giorno all'altro, ma con un percorso di riordino, un percorso dove tu prendi minimo 10.000 scelte, dove molto probabilmente valuti almeno la metà le cose sono da lasciare andare, che hai comprato molte cose le comprate erroneamente, ok, sono degli errori, solo però guardando quegli errori e provando il dispiacere, ok, dei soldi spesi, quel dispiacere, quell'emozione ti porta a non comprare nuovamente altre cose perché sai che non vuoi tornare a rivivere quell'emozione negativa, questo è il senso. Quindi per imparare a dare valore ai soldi, a ogni singolo euro che spendi, devi assolutamente dare valore alle cose che hai già in casa, perché se no tu praticamente in questo momento donare non è possibile per quanto riguarda i libri che decidiamo di lasciare andare, secondo te mettere in una seconda casa che affittiamo una buona idea. In che senso? Non ho capito. Cioè tu dici per fare tipo home decor, come si chiama? Decorare le case, cioè come si chiama? Non so se interior design, adesso non mi viene, ma se intendi per allestire le case, perché no? In genere ci sono queste cose. Ciao Claudia, ciao! In genere sì, poi ho visto, quando ho giocato un po' di case per quando dovevo cercare la mia casa, vedevo che comunque i libri c'erano ed erano stipulati per estetica e per bellezza, quindi se possono esserti utili, per quello sì, gli dai un'altra funzione, una funzione estetica, una funzione proprio estetica di design. Fallo, sì sì, lo puoi usare, perché alla fine è come se tu, praticamente quel libro, dato che non ha una funzione per te più, diciamo, per le informazioni che contiene, puoi utilizzarlo per invece estetico. Sì sì, fallo, come design. Cioè ci sta, perché ci sono dei libri che sono magari più riviste, per esempio, che sono più da guardare o sfogliare, più diciamo per passatempo, molti le usano come decoro in casa, quindi fallo, bellissimo, cioè una bellissima idea e un modo per utilizzare libri che in questo momento tu non useresti, non leggeresti e non daresti valore, quindi fai così, abbellisci la tua casa con cose che poi sono tue, quindi è ancora meglio. Brava, brava, è un'ottima idea nel caso, io lo farei. Ok, quindi vedi, shopping consapevole anche in questo, nel senso dare una nuova funzione alle cose che si hanno, senza andare a comprare altro, cioè le cose le abbiamo, sfruttiamo le cose che abbiamo prima, troviamo una soluzione sulla base di quello che abbiamo, poi se proprio dobbiamo comprare, compriamo, però credetemi che io molte cose che non ho, non mi serve comprarle perché trovo un altro sotterfugio, semplicemente, trovo un'altra possibilità semplice per risolvere il problema, non è che, adesso alcune cose non ve le posso dire perché sono personali, però ce ne ho di esempi che uno dice ma come hai fatto, l'ho fatto, e quindi si può, basta un po' usare il cervello, l'ingegno e possiamo effettivamente riuscire veramente da una cosa usarla per tre, per tre soluzioni differenti, quindi fai così Carolina, comunque, ottima idea. Ok, non so se avete domande, fatemi alcune domande, non so voi come gestite i vostri soldi, se siete bravi a gestire i vostri soldi, se delle volte vi siete accorti di aver fatto delle spese sbagliate, se vi siete pentite di alcune spese, poi molte spese, quelle peggiori sono quelle che tu fai online o ad esempio che non sono proprio cose che tu hai in casa e sono spese così che tu non vedi, passano veloci, quelle sono le più pericolose perché non usi nemmeno i soldi contanti ma vai di carta, lì bisogna stare ancora più attenti perché non ti rendi conto di quanto stai spendendo, quindi come vedete, cioè se ci fate caso quando andate in un negozio cercano proprio di tampinarvi, nel senso anche la fast fashion in questo momento, non è che è casuale il fatto che voi ogni volta che andate in un negozio ci sono cose diverse, cose nuove, perché in realtà è un punto debole questo no, è un nostro punto debole quello che abbiamo i soldi, li spendiamo quando ci piace una cosina ogni giorno, però ogni giorno 10 euro, 5-10 euro a fine mese sono un po' di soldini, quindi io quello che faccio fare, al posto di dire non farlo, ok, io semplicemente nel percorso le insegno già praticamente una nuova abitudine, il mio sogno è di riorganizzare il mio armadio camera da letto, Deborah tu hai il sogno di organizzare il tuo armadio e la tua camera da letto e lo stai facendo come sta andando, quindi diciamo che quando uno vuole fare ordine ok, ma quello che io dico, ok, per approfondire la tematica, magari Deborah è la prima volta che sei qui in diretta con me, comunque benvenuta a tutte, potete sempre approfondire la tematica dell'ordine, del disordine, l'impatto che ha in modo più profondo nella nostra vita, non è un semplice riordinare, organizzare le proprie cose, piegare, non penso che debba insegnartelo io a piegare le cose, non credi, però se vuoi te lo faccio vedere, ma ci sono tanti libri, penso che chiunque te l'abbia insegnato a piegare le cose, il problema non è il piegarle, il problema è avere spazio per le cose che hai in casa, vederle, averle sotto mano e sfruttarle nel minor tempo possibile, essere veloci e non stressarti per stare dietro la tua casa, le tue cose, potete approfondire questo col percorso di consapevolezza che c'è in descrizione qui nella live, basta cliccare nel link e vi arriva tutto via mail, è un percorso gratuito, ok, che vi arriva via mail e rimane a voi per sempre e approfondiamo la tematica dell'ordine, del disordine, su più che altro l'impatto che ha sulla vostra vita, gli errori che avete compiuto fino ad oggi, ok, per cercare di darvi un po' di informazioni riguardo a questa tematica che è molto poco affrontata nel nostro paese, ma è importante, ovviamente il mio messaggio oggi da consulente con mare certificata, e potete andare a vedere comunque sulla piattaforma mondiale di Maricondo, ok, cercare il mio nome Albaromito, mi trovate, l'idea è proprio quella di trasmettere un messaggio di qualcosa, di un'esperienza che ho vissuto sulla mia pelle e che una volta che l'ho vissuta e ho visto i benefici, non me la sono voluta tenere solo per me, questo è, e ho detto però quante altre donne potrebbero stare bene come sto io, poter rivoluzionare la loro vita, poter essere più serene, poter vivere un trasloco con serenità, potersi godere i propri vestiti, le proprie cose, perché non condividerlo? Lo fanno tutti, io potrei dare una mano condividendo un'esperienza che è benefica, cioè non devi fare niente da parte stare in casa tua a riordinare e tutto i benefici ce li hai già in quel momento in casa tua, ho detto iniziamo a farlo, ed ecco perché mi vedete qua a condividere la mia esperienza, perché lo faccio con passione, anche prima di questo momento stavo imparando a fare la spesa in casa, invece di andare a comprare qualcosa che non trovavo nel mio caos, interessante, esatto l'idea è proprio questa, cioè di fare praticamente lo shopping in casa, perché molto spesso tu cerchi delle cose ma ce le hai, è solo che non sai dove sono, ma te le sai anche dimenticate, quindi fare ordine ha tantissimi benefici, come dico sempre, non pensiamo che riordinare voglia dire buttare, riordinare è un percorso in cui tu ti metti in discussione e impari, impari praticamente a vivere, praticamente a vivere come tu hai sempre desiderato, ma per farlo di mettere un punto, riesaminare gli errori che hai compiuto per non sbagliare più, però se tu vai avanti pensando di migliorare sulla base di qualche ricordo, non va bene, tu devi tornare indietro, vedere gli errori che hai fatto, provare quella tristezza, quell'emozione, quell'impatto emotivo che ti porta poi a dire quando ti ricapiterà questa situazione di non commettere più quell'errore, io vi dico, quando mi trovo a dover comprare delle cose, ma sapete quanto io ci penso? Gli pongo tutte le domande possibili, se ottengo 10 sì su 10 compro, altrimenti io non lo faccio perché mi sento proprio in colpa, mi sento male perché dico ho speso questi soldi, oh mamma mia però potevo spenderli meglio, forse non avevo così realmente bisogno, faccio tante domande, ok? In primis perché se non sono una, non compro abitualmente, quindi non sono abituata a far andare la carta e a spendere, perché do valore a tutto ciò che compro, cioè io compro con l'idea e con l'ottica che se ti compro rimani con me per sempre, mi prenderò a cura di te per sempre, non ti compro per quando non ho più voglia e ti butto, ok? Non sono così, io do valore alle cose, do valore anche a chi le ha fatte, a tutto, do valore a tutto, quindi anche i miei soldi io scelgo di spenderli per un brand piuttosto che un altro, sapendo che quei soldi possono andare a finanziare quel brand che ha un'etica dietro, ok? Io compro con etica, shopping consapevole vuol dire comprare avendo dei valori, avendo dei valori che puoi costruire soltanto, ok? Facendo un percorso di consapevolezza, un percorso interiore in cui effettivamente vai a scoprire quali sono i tuoi valori, ok? Quindi quando parlo di riordino, parlo di ordine, come potete notare in tutte le live che ci sono su questa pagina, vi invito a guardarle per capire molto di più cosa vuol dire fare ordine, vi invito a vedere anche le ultime tre live, veramente molto belle, intense sono state per i temi trattati, l'idea è quella di cercare di vedere quanto l'ordine, sia molto di più, sia molto più profondo, abbiamo parlato di una live in cui abbiamo imparato a lasciare andare anche l'emozione, il ricordo di persone che sono entrate nella nostra vita, che però non ci sono più, come affrontare il passato, perché è difficile affrontare il nostro passato, ok? Perché sono le questioni in sospeso che abbiamo, ma sapete che il passato non è la prima cosa che si affronta? No, si affronta prima il presente, il passato è l'ultimo, ok? Quindi noi dobbiamo cercare di imparare a capire che fare ordine vuol dire mettere un punto e ricominciare, vuol dire creare equilibrio fra noi e gli altri, fra noi e le nostre cose, fra noi, il nostro presente, il nostro passato e il nostro futuro, è un percorso molto più profondo che puoi fare solo se capisci che lo strumento, il metodo con mare in questo caso, il metodo di fare ordine è uno strumento e un mezzo per andare a elaborare, a sviluppare una mentalità da persona ordinata, una mentalità vincente che si fonda su cinque fondamentali basi, radici, che io chiamo radici, che sono quelli di imparare a fare chiarezza, che sono quelli di avere una disciplina vincente, imparare a dire no, imparare a mettersi al primo posto, avere delle abitudini sane e produttive, uno sede di vita sano e produttivo, ma sapete cosa vuol dire uno sede di vita? Dove il tuo tempo lo spendi veramente bene e ne hai sempre abbastanza per te, imparare a spendere le proprie energie, nel modo giusto, non riempirsi la giornata e la vita di impegni, 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 di cui la maggior parte non te ne frega niente, li fai solo perché ormai è routine e perché pensi che avere la vita piena vuol dire che c'hai la vita migliore, in realtà sei solo piena, piena, piena e ogni giorno non hai neanche le forze, le energie per prenderti cura di te, scrivere una pagina di diario e dedicarti alla passione che hai. Mi fai un fatto all'interno del tuo armadio? Io vorrei come in un negozio e pratico, allora le uniche persone che vedono la mia casa, tutta la mia casa e le mie cose sono le donne che sono in scelgo me, sono le uniche che vedono la mia organizzazione, delle mie cose e anche il perché, faccio proprio, spiego tutto. La tua idea di avere una casa che sia come un negozio e la praticità, sono d'accordo la funzionalità della praticità, io non sono per una casa esteticamente perfetta, ok? Io sono più per una casa funzionale perché il primo passo, ecco, un po' per spiegare, il primo passo quando si fa ordine non è pensare all'estetica, all'impatto che è estetico che devi avere, ma deve essere principalmente la praticità, la funzionalità, ok? Della tua, delle cose che hai. Il passo dopo può essere andare a migliorare l'estetica, renderla come se fosse il tuo negozio preferito, è bellissima questa metafora, assolutamente, io le mie cose ce le ho come se effettivamente andassi in un negozio, le vorrei a vista, le vorrei che posso guardarle, voglio avere la comodità, ok? Di poter avere lo spazio per potermeli provare, ok? Sì, l'idea di un negozio è una bellissima immagine, non solo per l'estetica esagerata, ecco, perché comunque mantenere quell'estetica necessita tempo, necessita tempo e io preferisco dedicare il mio tempo ad altro, non alle mie cose, sì, fino a un certo punto, preferisco dedicarle ai miei interessi, alle mie passioni, al mio lavoro, alle persone che amo, al mio benessere fisico, alla mia salute, ci sono tanti settori che bisogna dare importanza, la casa, bisogna fare un percorso, farlo bene, strutturato, ottenere quel risultato, ma poi quando fai ordine capisci che tu hai altri valori, hai altri interessi che vuoi coltivare in quel momento perché capisci che la vita passa, il tempo passa e man mano che vi avanti dai tanto valore al tuo tempo, alle tue energie, alla tua serenità e capisci che vuoi semplicemente sfruttarla meglio, soprattutto per ciò che ami, durante il percorso scopri, ti riscontri scopri e capisci esattamente quali sono anche le tue passioni, ci sono donne che cambiano letteralmente la loro vita, perché scopri man mano che vanno avanti che loro hanno una passione, hanno anche una stanza dedicata per dire, no? Non è scontato, bisogna veramente guardare la nostra casa per come è, se noi dedichiamo un quarto della nostra casa ad una passione che abbiamo, in realtà io mi aspetto che un quarto della tua vita, tu o un quarto del tuo tempo ogni giorno, lo dedichi a quello, se non è così, vuol dire che hai bisogno di fare ordine per riuscire a ritrovare quell'equilibrio fra te e le tue passioni, fra te e gli altri, fra te e lo spazio che dedichi alle cose nella tua casa, fra il tuo passato, il tuo presente, il tuo futuro. esatto, esatto Deborah, io questo do, bravissima, un'impostazione che poi facendo il percorso di riordino, tu proprio, Lella, ciao, ciao, buonasera a te, l'idea è che tu fai un percorso dove tu apprendi per forza, perché fai talmente tante scelte, è un percorso talmente strutturato bene, che tu finisci che hai delle abitudini, un nuovo stile di vita, per forza, sei una persona diversa, non puoi essere la persona che lo ha iniziato, solo perché sei ordinata, non spendi più i tuoi soldi in quel modo, sei più serena, hai più tempo, più energia, sei un'altra persona, una persona migliore, perché in realtà sei sempre tu, solo che hai tirato fuori il meglio di te, al posto di essere un ambiente disordinato, facendo ordine, sei riuscito a tirar fuori quella parte di te ordinata, che non sei il meglio di te in casa, il meglio di te in casa, ma poi hai anche tirato fuori il meglio di te in tutto quello che te ami, quindi è un percorso che va a lavorare su di te, su il tirar fuori un po' quella leonessa, che io chiamo così, la leonessa che c'è in ognuno di voi, quella parte forte, coraggiosa, quella parte che si mette al primo posto, quel sano egoismo che serve nella nostra vita, quel sano egoismo, ok? Quel mettersi al primo posto perché se tu non sei felice non lo saranno neanche le persone attorno a te, se tu non sei felice anche il lavoro non andrà come tu vuoi, se tu non sei felice anche le tue passioni, la tua creatività sarà intaccata. Lella, ultimamente sto mettendo ordine, ma più metto ordine più disordine, mi trovo al momento. Certo, è normale, perché bisogna avere un metodo, serve un metodo. Il segreto, ok, è che serve un metodo. Anch'io per 19 anni facevo ordine, facevo ordine, ma non facevo ordine, perché in realtà magari facevo l'armadio e la cameretta, però poi cosa succedeva? Che il resto è la camera disordinata, quindi il disordine prende il sopravvento sull'ordine. L'idea è cercare di fregare, ok, il disordine, riuscendo a passo dopo passo a fare più ordine possibile, man mano che la quantità di ordine nella tua casa sia maggiore rispetto al disordine, fino a che il disordine sarà questo. Zero. Anche tu Dani, è stato le carte, ormai siete tutte, ho notato che state facendo, siete a tipo tutto lo stesso passo, libri insieme, carte insieme, le odiate carte. Lo so, sono noiose, però quando fai quelle capisci che veramente, ecco, fare le carte, che è una cosa che non vi piace, vi fa capire quanto è brutto fare ciò che non amate, perché durante il percorso di riordino capite cosa amate veramente, quindi quando terminate il percorso avrete nuovi pensieri, nuovi valori, nuove idee, i documenti sono un incubo e Marina lo sa, abbiamo visto la sua foto di partenza e ha fatto un lavorone e penso che sia ancora sulle carte. Quindi diciamo che per esempio Lella, se vuoi fare ordine effettivamente in questo momento, beh, che c'è il percorso di consapevolezza qui in descrizione e poi gratuito, che puoi un po' approfondire la tematica dell'ordine, capire anche gli errori che è commesso fino ad oggi, che ne parlo, e nel secondo video, sono quattro, un mini corso gratuito di consapevolezza. E se poi tu cerchi uno strumento efficace, io al mio percorso scelgo me, dove ci sono tantissime donne, oggi hanno fatto accesso altre due, che bello, sono contentissima di tutte queste donne che vogliono fare ordine, perché questo è il momento migliore, come ho detto, è un momento di stop, no? L'Italia ora è ferma, il mondo è fermo, perfetto, è un segnale, dobbiamo fermarci, perché andava tutto troppo veloce, quindi se dobbiamo fermarci, o dicono tutti, facciamolo anche noi, fermiamoci e quindi mettiamo un punto e facciamo ordine, facciamo ordine, facciamo chiarezza sulla nostra vita fino ad oggi, sul nostro futuro, in questo momento è importante capire cosa dovremo fare da qui ai prossimi tre mesi, imparare a fare chiarezza è fondamentale, avere uno stile di vita sano, imparare a gestire i papi soldi, soprattutto nei momenti di difficoltà, di crisi, infatti mi dedico alla casa, un toto di ore e poi dipingo, brava, anche te, oh, tutte? Ma quante, quante dipingete? Ma beate voi che sapete dipingere! Io ho sempre desiderato, sempre desiderato imparare a dipingere, a disegnare, io ho anche dei miei quadretti, eh, li ho fatti, li ho un ragazzo, avevo fatto un dipinto, l'avevo ritratto, un'opera d'arte, un'opera d'arte è stata veramente, però sono una persona molto creativa e anche a me piace, cioè mi piace dedicarmi un po' alla mia creatività. Comunque, l'idea è, al posto di perdere tempo, quello che dico, ci sta a fare ordine, perché alla fine se non ha niente da fare, uno si può dedicare all'ordine, anzi, è un'ottima maniera per avere pensieri diversi, sentirsi utili e affrontare questo momento al meglio. Però io quello che noto, almeno quello che ho provato sulla mia pelle io, è che poi quando si ha tempo va bene, ma quando non se ne ha meno e continuare a fare ordine ancora non va bene, perché poi tornerà al disordine. L'effetto boomerang lo si ottiene perché, come ho detto, shopping consapevole, fai spazio, compri e lo spazio lo riempi, primo. Secondo perché quello che succede è che, fai ordine ma non hai un metodo, un percorso ordinato, cioè quando si fa ordine bisogna farlo in modo ordinato, perché se no, se tu fai disordine in modo disordinato ottieni disordine. Se tu fai ordine in modo ordinato otterrai ordine, ecco perché prima di fare ordine il mio percorso si lavora sulla mentalità, perché tu devi avere la mentalità da persona ordinata per poterti approcciare all'ordine in casa tua nel modo migliore, perché se no farai altro disordine. Io sono una frana dipingere, riuscivo a fare giusto le pupazzette tipo Sailor Moon con gli occhioni giganti, beata te, almeno quello, io neanche quello. E magari poi adesso non dipingo da un po', magari se mi metto a fare, boh, magari adesso riuscirei a dipingere meglio, non lo so, magari perché ho un po' più di ordine in mente, probabilmente. Però se avete le passioni coltivatele, coltivatele sempre, dovete avere lo spazio in casa, come ho detto nella due live fa, che ho detto che dovete avere una passione, dovete avere lo spazio in casa per coltivarla. Ok, quindi quando fate ordine, se voi fino ad oggi non ce l'avete fatta un errore, è quello di approcciarsi all'ordine, se siete disordinate, vuol dire che non siete solo in pratica in gesto, ma perché siete disordinati anche nei vostri pensieri, nel modo di agire, nel modo di comportarvi, ok? Perché iniziate una cosa, poi fate un'altra. Non è che se non fate le cose prima una, poi finite, poi iniziate un'altra, noi fate più cose insieme molto spesso. Questi sono degli errori. È normale per una persona disordinata che ha delle cattive abitudini, una persona ordinata inizia e termina, inizia e termina e ha un percorso, ha degli step, ha fatto chiarezza, sa che se oggi inizia una categoria, domani ce n'è un'altra, ma poi poi c'è una sottocategoria di ogni categoria. C'è un percorso strutturato, ma questo rende un percorso di riordino felice, un percorso di riordino leggero, perché comunque è intenso, non è così semplice. Pensate di passare in rassegna tutte le cose che hai in casa. Se ne hai 10.000, eh, sei fortunata, ma la maggior parte delle persone veramente disordinate ne hanno molte di più. Ne hanno molte di più. Io ne avevo molte di più quando ho fatto l'ordine. È stato infinito, infinito. Quindi è normale che uno ti dice, ci puoi mettere un mese, un mese e mezzo, quattro mesi, cinque mesi, dipende da quante cose hai, quanto tempo hai a disposizione, quanto tempo in realtà decidi di dedicare al riordino, perché come dico sempre, abbiamo tutti 24 ore, abbiamo tutti il stesso tempo, c'è chi più ha impegni e chi ne ha meno, la differenza è come tu lo impegni questo tempo, no? Come vi dico sempre, non scegliamo noi la durata della nostra vita, ma la pienezza con cui viverla. Quindi c'è chi sfrutta questo tempo al meglio per sé, per uscire migliore da questo momento, altrimenti sei come prima e non è possibile essere come prima, se adesso siamo tutti fermi, qualcosa sta cambiando, il mondo sta cambiando, dobbiamo essere al passo, l'ambiente in cui viviamo ci deve avvertire, ci deve dire che sta cambiando qualcosa, che noi stiamo cambiando, che il nostro futuro sarà differente. Se noi siamo ancora con la casa che ci manda gli stimoli di quando eravamo un mese fa belli liberi in giro, non va bene, perché tu tornerai tra un mese che pensi che sia tutto uguale, in realtà non lo è. Quindi la mia casa parla ben chiaro in questo momento del cambiamento che sto vivendo e lo state vivendo anche voi. Quindi la nostra casa, la mente in cui viviamo deve essere coerente, tornando alla live di ieri, coerente con la persona che siamo, non possiamo raccontarci balle e dire che tra qualche settimana tutto tornerà come prima perché non è mai successo che si fanno passi avanti per tornare indietro, si è sempre in evoluzione, sempre in cambiamento. Quindi il nostro tempo è importante, la nostra vita è importante. Dobbiamo capire come noi la vogliamo vivere, però non la possiamo capire prendendo un foglio e iniziando a scrivere la Divina Commedia. Dobbiamo fare proprio dei gesti pratici che ci mandino, ok, ci portino a riflettere e fare ordine vuol dire proprio questo, porsi delle domande precise, domande che per quanto mi riguarda in un libro non trovi. Non le trovi in un libro? Non te le sto nemmeno io qui a dire? Perché? Perché ci ho impiegato quattro anni per capire che cosa, ok, che cosa esattamente non mi portava a ottenere quell'ordine duraturo che io desideravo, cioè che stavo sempre un po' dietro. Perché? Perché non ho fatto un ordine perfetto, cioè seguendo dei passi ponendo miei giuste domande, le domande non sono due. La domanda non è solo una che cosa mi rende felice, che cosa mi dà gioia. Quella è una domanda molto generale, che come vi ho detto, il libro italiano lo traduce con felicità, ma in realtà in giapponese non è nemmeno felicità, è tutt'altro significato, ok? Quindi noi non possiamo, il nostro libro è stato tradotto, il libro di Marie Kondo, è stato tradotto dal giapponese, ma dall'interno inglese, ok? Quindi sono tre salti di lingue, ma cosa vogliamo pretendere? Che il libro parli veramente della filosofia che lei voleva tramandare? Non è così, non è così. Quindi, quando io ho fatto il corso da Marie Kondo, sono andata fino a Londra, ho pagato 3000 passa euro per il suo corso, sinceramente non vestiti anche molto di più poi negli anni, sentendo la sua filosofia, la sua storia tradotta al mal momento, ok? Confrontandomi anche con le altre donne di tutti gli altri paesi, conoscendo anche tre lingue, ho capito anche sfumature diverse, ho capito che il metodo così come raccontato il libro non era abbastanza e lei primprimis lo dice che non è abbastanza i libri che ha e lei contiene consulenze, fa workshop in Giappone, fa workshop in America, quindi per dirvi che da sole sì, ma non è abbastanza. Io l'ho fatto da sola, ma in realtà ci ho impiegato quattro anni per capire da sola come fare. Invece quando tu hai una guida, una persona che ti segue, ti dice cosa stai sbagliando, ancora prima di farti perdere una settimana, due settimane dietro a una cosa, inutilmente. Io avevo donne, ci sono donne che sono nel percorso che hanno provato a farlo da sole, però poi sono rese conto che tornavano sempre punto a capo e che si hanno rotte le balle di spendere tempo, volevano dedicare quel tempo per la loro famiglia, per i loro figli, per ciò che amavano e non litigare più per l'infamiglia, per il disordine, tutto questo tempo buttato, questi pensieri sbagliati. È meglio, se abbiamo del tempo, non litigare per il disordine, per una problema che non è un reale problema, perché in realtà è una scusa, è una scusa per litigare con quella persona, perché qualcosa non va, ma in realtà si parla di cose pregresse. Il disordine è sintomo e causa, sintomo è che le cose non vanno, causa per cui le cose non miglioreranno mai. Come dico sempre, questo trovate nel mio percorso di consapevolezza, vi consiglio qui in descrizione di cliccare e fare questo minicorso gratuito che ho preparato per voi, oppure di guardare tutte le mie 40 passalive su questa pagina, ma se sentite che volete fare ordine e sentite che volete farlo nel minor tempo possibile, ma ottenere anche un risultato duraturo, allora quello che potete fare è accedere al percorso Scelgo Me, che adesso è in offerta, con 10 bonus inclusi. Quindi, ci sono gli strumenti, ci sono le soluzioni, dipende noi se vogliamo effettivamente risolvere il problema. Io ho trovato tante donne che sono nel mio percorso, che questo premiamo, lo vogliono risolvere e lo stanno facendo. Ovvio, hanno bisogno di un supporto perché mollano ogni tanto, ma ci sono io che le sveglio. Arrivo lì, diretta settimanale lunedì, Scelgo Me, qua sulla pagina, se hanno bisogno mi scrivono, mi mandano una fotina, vedo i passi avanti, sono lì, sono lì presente perché so che è facile mollare. Sono la prima che quando voleva fare ottenere un risultato, voleva ottenerlo subito, non avevo la pazienza. Invece bisogna avere la pazienza perché questo percorso ti insegna che per ottenere un risultato ci servono degli step, dei passi, piano piano, però di iniziare un passo, terminarlo, poi passare al secondo. Sono 5 passi, 5 più l'organizzazione 6. Quindi in realtà ci vorrebbero 6 settimane, non di più. Se state riordinando da 8 anni e mezzo oppure avete riordinato 2 anni fa e state rifacendo ancora, avete fatto male il percorso, avete fatto male, credetemi, è così. E non ve lo dice una che è passata adesso, ieri faceva la casalinga, non ho mai fatto la casalinga io, e non lo faccio neanche adesso. Io faccio tutt'altro, ok? Semplicemente ho scoperto il potere dell'ordine, una volta che l'ho fatto mio, l'ho introdotto nella mia serie di vita, ho capito che in realtà poteva essere utile a tantissime donne che hanno una vita strapiena, devono fare da mamme, lavorare, gestire una casa, preparare la cena al marito, poi andare in palestra a dedicarsi a tutti i del tempo, un sacco di faccende, un sacco di impegni, però dico, cavolo, ma il tempo che spendono poi ogni giorno per stare dietro alla casa, alla pulizia, all'organizzazione, perché non toglierlo? Perché non ridurlo a 30 minuti a settimana se è possibile farlo? Diciamolo alla gente, facciamolo sapere, perché secondo me ci sono donne che ci tengono al proprio tempo, ma soprattutto ci tengono a... hanno obiettivi migliori che passarlo a riordinare casa, a pulirla tutti i giorni. La nostra casa deve essere un luogo dove noi possiamo viverci, c'è un luogo per vivere, non dove noi dobbiamo impegnarlo per la casa, è un luogo dove noi vogliamo viverci. Quindi se vogliamo viverci dobbiamo avere il tempo, l'energia, la serenità per farlo e l'ordine è il primo step, il primo step per finalmente vivere come noi vogliamo, la nostra casa ma anche la nostra vita, perché poi la nostra casa, c'è il tempo che viviamo in casa nostra, fa parte della nostra vita, quindi è normale dire che l'ordine ha un impatto sulla nostra vita se ci porta ad avere più tempo, più energia, più serenità, ad avere lo spazio per ciò che amiamo, per le nostre passioni, essere più veloci, avere più soldi a fine mese, avere reazioni appaganti, imparare a prendere scelte e effettivamente selezionare anche le persone che abbiamo nella nostra vita, imparare a lasciare andare il passato, finalmente alleggerirsi tutte quelle questioni in sospeso che abbiamo nel passato, ma sapete quante zavorre ti togli dopo che hai fatto ordine? Ti rinasci, infatti molte hanno definito la loro scadenza, la loro fine del percorso con la Pasqua, un momento di rinascita, perché quello che uno vuole è proprio rinascere, rinascere e quello che devi fare è sicuramente ripartire dalle cose che hai in casa, dall'ambiente in cui vivi. Perché scusatemi? Perché non è possibile che noi usciamo di casa per stare bene, noi dobbiamo stare bene anche in casa nostra, è il primo posto dove noi dovremmo stare bene, poi trovare persone, non ho più voce, poi trovare stimoli fuori, perfetto anch'io, prima di fare ordine ho fatto corsi di formazione così, ma non sono riuscita a portarne a termine uno, dovevo raggiungere quell'obiettivo, fare la meditazione, fare quello, scrivere il diario, ho iniziato, non ho mai terminato niente, mai, dopo che ho fatto ordine, che invece ero molto più costante, non ero approssimativa, sapevo dedicare il mio tempo a ciò che veramente amavo, tutto questo mi ha portato finalmente a faccio un corso, l'ho pagato, do valore ai miei soldi, al mio tempo mi ha detto di fare una cosa, la faccio e mi arricchisco, non è che tengo le dispense nella speranza che quelle dispense mi possano un giorno servire quando avrò bisogno, perché quando avrai bisogno quelle dispense non le troverai perché sei disordinata, ma in più magari non sarai neanche in casa tua, ma forse starai vivendo la tua vita, io quando faccio un corso, ma sono la prima che nel mio percorso non ho dispense, ok? Perché l'idea è che se tu fai un corso con l'idea che poi avrai le dispense per poterti, quando avrai voglia, andare a vedere le informazioni, vuol dire che tu stai vivendo quel corso non con l'idea di imparare minuto per minuto, dare importanza ai soldi che hai speso, al tempo che stai spendendo in quel momento, ma pensi, ma sì dai, rimandi, procrastini, al posto di dare importanza a quel momento che stai vivendo, a quel corso che hai scelto, dici, ma sì tanto poi c'ho la dispensa, perché, perché volete le dispense dei corsi? Siete lì dal vivo a vedere una persona che vi sta dicendo le cose e voi prendete appunti o vi basate sulla dispensa, voi dovreste essere lì a prendere tutto quello che vi dà, perché poi quando tornate a casa, tutto quello che vi ha dato, se avete un ambiente potenziante a casa, riuscite a portare a mantenere quello che avete ricevuto anche in casa la vostra, perché è un ambiente potenziante, sereno, un luogo sicuro, avete lo spazio per poter mettervi lì a scrivere quello che vi ho detto di fare, mettervi al computer, avere uno spazio per poter sviluppare quell'obiettivo che vi ho detto di fare, così per il lavoro, per le passioni, qualsiasi corso avete fatto, ma se non avete, e voi fate un corso di meditazione, ma in casa non avete neanche un tappetino, sapete dov'è, non avete neanche lo spazio per poter meditare in uno spazio che poi sia da meditazione, perché adesso, meditare in uno spazio disordinato che è pieno di cose, ma quanta confusione è? Come fai a rilassarti in un ambiente disordinato? Quindi perderai tempo prima di fare meditazione per riordinare la tua camera, perderai tempo, energia, quando in realtà potevi farlo prima, ci mettevi qualche ora per fare il tuo percorso di riordino, spendi solo 30 minuti a settimana perché devi semplicemente rimettere da posto, non devi fare niente di che, e ora potresti fare meditazione nel tuo ambiente ordinato, ok? E ottenere dei risultati, perché tu fai meditazione con gli occhi chiusi, poi quando li apri sei spaventata, sei confusa perché vedi il disordine, quindi se tu preti rilassata ti rigidisci nuovamente, sei ancora nervosa e quindi poi è ovvio che poi vai a fare il corso di yoga fuori casa, perché lì non c'è niente nella palestra, ti rilassi, ma poi quando torni a casa, le cose sono sempre lì disordinate, quindi torni punti a capo, cioè siamo sempre... Grazie